Bologna, professor degli esposti, Roma, professoressa Perniola, Bennato, Catania, professor Bennato Allora, professor, andiamo a Catania Diciamo che questa Berlinale numero 70 mi rende molto contento soprattutto perché c'è molta presenza dell'Italia come si è già avuto modo di dire questo secondo me sta ad indicare che in queste settimane si parlava del fatto che l'Italia è nella classifica internazionale il paese che a livello internazionale esercita la sua influenza culturale in tutto il mondo quindi secondo me il fatto che ci sia anche del cinema italiano dato che come giustamente lei ricorda spesso la notte il cinema e cultura secondo me questa è una bella esperienza per l'Italia ma soprattutto fa capire che questo nostro paese ha molto da dire a tutto il mondo